Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV sul canale 17, questa è la rassegna stampa in diretta delle 7.45, dunque tra poco vedremo i quotidiani, prima il santo del giorno, poi le previsioni del tempo visto che ci sono dei cambiamenti in corso sopra le nostre teste, allora Santa Augusta, Martire, il sole è sorto le 5.27, tramonterà alle 20.55, oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso al mattino per nubi alte, aumento della copertura di tipo cumuliforme dalla tarda mattinata e nelle ore pomeridiane, avremo rovescio temporale sparsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane in spostamento dalle zone interne verso la costa, i fenomeni potranno risultare più intensi nel settore meridionale della regione, quindi attenzione perché tarda mattinata, primo pomeriggio, verso le 2 comincerà a piovere. Domani, venerdì 27 giugno, ancora tempo nuvoloso, con schiarite sempre più ampie nel corso del pomeriggio, avremo rovescio temporale sparsi nelle ore centrali della giornata, in particolare nelle zone interne della regione. Sabato 28 il cambiamento, dunque il miglioramento, con cielo sereno poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano sui monti, temperature in aumento, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, nelle Marche non sono previste precipitazioni degne di notte, le temperature senza notevoli variazioni. Allora, apriamo i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, scoperte le case del sesso superaccessoriate, a disposizione 8 donne, a disposizione dei clienti 8 donne dai 19 ai 60 anni e anche un ragazzino trans. La pausa pranzo bollente dei clienti fanesi, questa è la ricostruzione di un'operazione di polizia che si è conclusa nei giorni scorsi. Poi i ladri ingordi rubano soldi anche dolci da Longhini, il colpo in piena notte ai danni del panificio di Via del Fiume a San Lazzaro, bottino da quantificare. Sempre dalla pagina del Corriere Adriatico, caso De Leo, un vero rompicappo tra nuove normative e trasparenza, con la fine dell'ultima tornata amministrativa, infatti Giuseppe De Leo cessa delle funzioni di direttore generale. Il 9 giugno scorso, il giorno dopo le elezioni a sindaco di Massimo Seri, ha rassegnato le proprie dimissioni. Ora l'interrogativo è Giuseppe De Leo, è ancora un dipendente del Comune di Fano, in virtù di una decisione di Aguzzi ricopre in regime di prorogazio per 45 giorni la dirigenza dei servizi sociali. L'altra pagina del Corriere Adriatico, Corrieri della droga inseguiti e arrestati, sorpresi a bordo di una potente auto, hanno tentato la fuga liberandosi di un etto di cocaina purissima. I Carabinieri, dopo un breve inseguimento, l'altra sera hanno arrestato un cinquantenne e un trentenne, entrambi di origini albanesi e già note alle forze dell'ordine. Questi Corrieri avevano droga purissima che era destinata alla piazza di Cartoceto. Il Consiglio regionale accelera l'iter per il nuovo casello di Fenile di Fano. Soddisfatto il consigliere Mirko Carloni, la palla adesso passa al Ministero dell'Ambiente. Ricordiamo che c'è un blocco sul progetto che dovrebbe realizzare il casello autostradale di Fano Nord, quello di Fenile appunto. È un blocco dovuto a un parere negativo della sopraintendenza per ragioni di impatto paesaggistico. Bisogna fare il possibile per ottenere un parere favorevole, dice Carloni, magari rivedendo anche lo stesso progetto. Marotta brinda all'unificazione. Festa in piazza Kennedy. Questa sera si brinderà all'unificazione. È un obiettivo atteso da decenni, conquistato grazie ad una mobilitazione popolare senza precedenti. Alle 20.30 ci sarà una cena, dopo gli interventi del Presidente del Comitato Gabriele Vitali e di altri esponenti con musica e intrattenimento. Mondavio celebra invece la sua bandiera arancione, spettacoli, enogastronomia e giochi storici rovereschi. La pagina di Pesaro Urbino del Corriere Adriatico. Rubano 13.000 padelle, sono stati presi, hanno caricato il materiale per un valore di 130.000 euro, sono stati intercettati e arrestati grazie ad una brillante operazione condotta dai carabinieri di Saltara, guidati dal luogotenente Pannaccio. Tre ladri di Cerignola, Foggia, sono stati presi con le mani nel sacco e arrestati. Si tratta di un bracciante agricolo di 38 anni, di un operaio edile di 37 anni, di un autotrasportatore di 47 anni. Ieri quelli che abitano a Fano se ne sono accorti sì e no, perché il maltempo di fatto ha, per una questione di microclima evidentemente, ha saltato a piepari la città e la vallata del Metauro, mentre ha colpito con fulmini, grandini e addirittura una tromba d'aria a Senigallia, il resto della provincia, sia di Ancona che di Pesaro. Perché a Pesaro, per esempio, c'è stata una forte grandinata, la prima alle 13 con un cielo che ha oscurato parte a nord della città, poi intorno alle 18 grosse palline di ghiaccio hanno sferzato il centro storico di Pesaro danneggiando auto e spaccando alcuni vetri, con un fuggi-fuggi generale per ripararsi dall'acqua, ma soprattutto per evitare di essere colpiti da chicchi di grandine. Una manciata di minuti, ma le strade erano già bianche come fosse nevicato. La stessa cosa è accaduta ad Ancona e, come dicevo, a Senigallia invece c'è stata una piccola tromba d'aria. Corto circuito, a fuoco due capanni agricoli, le fiamme sono divampate da un frigorifero che conteneva carne e salumi, è successo l'altro giorno in due strutture in muratura e legno ad uso agricolo in via Sardegna a Pesaro, nel rettilineo che conduce in fondo alla vetreria Masetti. La pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, preso il ladro del tombino tradito dalle telecamere, è accusato un 31enne magrebino di essere l'autore della spaccata alla tabaccheria di via Buozzi, di messa a segno 15 giorni fa. Partono i lavori per le scuole e gli asili comunali a Pesaro, stanziati 470 mila euro, destinati alla manutenzione di 21 edifici. Ed ecco, nel giornale è pubblicato il calendario degli interventi. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, giro di vite sulle società partecipate, tetto agli stipendi e tagli alle indenità. La rivoluzione di Ricci che venerdì convoca gli stati generali della salute. Il messaggero, la pagina di Pesaro, riprende in apertura quest'ultima notizia che vi ho appena detto dal Corriere. Taglia gli stipendi dei manager, partecipate, giro di vite del sindaco Ricci e dell'assessore alla sostenibilità, briglia, riduzione delle società controllate e delle indennità nel CDA. Via libera a nuove strategie. Carloni vara il progetto Fano e apre a massimo serie. Opposizione costruttiva, ma l'amministrazione deve accettare la sfida del rinnovamento, lanciata una serie di proposte dalle ciclabili diffuse ad una fiscalità che incentivi chi vuole investire. L'aiuto silenzioso dei frati minori nei tragici anni della guerra. Si parla in questo articolo di un libro, un libro intitolato I frati minori nelle Marche, il passaggio del fronte, la resistenza agli sfollati, gli ebrei. Un libro che è stato scritto da padre Giancarlo Mandolini, un noto frate minore francescano per i suoi studi di storia locale e d'arte, che ha terminato questa importante ricerca storica che è durata, pensate, dieci anni. Ebbene, ha scritto questo libro che verrà presentato domani alle 5 e mezzo del pomeriggio nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Anche qui vedete il meteorologo che annuncia nubi, piogge e schiarite. Oggi e domani, poi sabato il tempo, come dicevamo, migliorerà. Sempre dal messaggero le liste d'attesa, si parla di sanità. Il nodo dei precari, interviene la CISL che parla della mancanza di risposte per precari lavoratori del sistema sanitario regionale all'indomani del voto sul documento per la riduzione delle liste di attesa e della mobilità passiva. La CISL dice bene, ha fatto la Regione ad affrontare questi due mali cronici della sanità marchigiana, quindi le liste d'attesa e la mobilità passiva. Però non dimentichiamoci che non esistono solo le macchine. Le macchine le portano avanti, le fanno andare avanti gli operatori sanitari. Quindi già oggi, dice la CISL, già oggi il personale sconta migliaia di giornalette di ferie non godute, festività soppresse non erogate, riposi saltati e straordinari non pagati. Lo stesso personale precario, prosegue la nota, che ha garantito il mantenimento dei servizi sino ad ora, non ha ancora alcuna garanzia di stabilizzazione e si parla di oltre 500 persone. Ancora dal messaggero, Cassa Inderoga, 4.000 lavoratori in allarme dal 1 luglio, non ci sono più le coperture per la Cassa Integrazione Inderoga. Vedete, Simona Ricci, segretario della CGL, si spera in una soluzione in extremis. Da inizio anno, 3 milioni di ore senza finanziamenti. Mezzo milione di euro invece al via i lavori in 21 scuole, interventi su infissi, ascensori, bagni, fognature ed esterni, scuole ovviamente di Pesero. E poi una notizia di politica che arriva da Sant'Ippolito, che è un po' più gossip, ma comunque è sempre politica. Il Partito Democratico furioso, alla festa dei rivali, c'era Vittoriano Solazzi, alla festa per l'elezione del nuovo sindaco di Sant'Ippolito, Stefano Tomasetti, della lista civica Insieme per Cambiare. Qualcuno ha notato una presenza di troppo. Il gruppo Democrazia e Solidarietà e il circolo PD di Sant'Ippolito hanno visto il presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi. Dalla pagina di Fano, per chiudere, uccise la moglie per gelosia, ha confermata la condanna. Ricorderete, qualcuno ricorderà, quell'omicidio che avvenne al secondo o terzo piano di un condominio alla Flaminio, in via Goldoni. Ebbene, uccise la moglie a coltellate per motivi di gelosia in una stanza d'appartamento. Poi si costitua il commissariato di Fano. La Corte d'Assiso e di Appello ha confermato l'accusa di omicidio volontario e la condanna a 30 anni di reclusione per Arbel Oxa. La sentenza di primo grado era stata emessa dal gruppo di Pesaro dopo il processo, con il rito abbreviato. L'uomo, dopo il 2 settembre del 2012, un'ora dopo averlo commesso, lo stesso pomeriggio si presentò al commissariato e disse l'ho uccisa, lo disse sotto shock agli investigatori, alla base del gesto c'era la paura di essere stato tradito da Mariola questo delitto, secondo l'accusa dettato da un codice d'onore albanese che consentirebbe all'uomo di uccidere la moglie anche solo sulla base di un sospetto tradimento. Chiudiamo qui la nostra assegna stampa. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.